Hai deciso di entrare nel mondo del network marketing, ma sai esattamente qual è la tassazione, quali sono le imposte che devi pagare? Ti dico tutto tra poco. Ciao, sono Riccardo Allievi, sono un dottore commercialista, uno dei titolari dello studio allievi che ogni giorno aiuta dal punto di vista contabile e fiscale chi fa network marketing. Oggi voglio parlarti di tassazione del promoter, quindi se hai deciso di entrare appunto nel network marketing e sei diventato un promoter, devi sapere che c'è una tassazione appunto sulle provisioni che andrai a prendere. Questa tassazione è molto interessante, anche molto agevolata, quindi vediamola nello specifico come funziona. Cominciamo col dire che la tassazione del promoter è uguale sia che tu svolga questa attività in modo occasionale, quindi se hai delle provisioni inferiori ai 5.000 netti all'anno, oppure se tu la svolgi in modo professionale, quindi hai l'obbligo di aprire la partita IVA, quindi se hai provisioni superiori appunto ai 5.000 euro. In ogni caso la tassazione è sempre uguale. Come funziona appunto questa tassazione? È una tassazione che prevede non la tradizionale sottrazione tra provisioni percepite e costi sostenuti, e anche che non prevede un discorso di tassazione di aliquote a scaglioni, quindi più il tuo reddito è alto, più le percentuali aumentano. La tassazione è completamente diversa, quindi cosa succede? Succede che c'è innanzitutto un reddito imponibile forfetizzato, quindi si vanno a prendere le tue provisioni, quindi quello che hai percepito nell'arco di un anno, e non si vanno a togliere i costi che hai sostenuto, ma si calcola una percentuale. Questa percentuale è del 78%, quindi ipotizziamo che tu abbia avuto e percepito provisioni per 10.000 euro, si calcola il 78%, quindi si ottiene 7.800 euro, e su questi 7.800 euro bisogna calcolare il 23% di aliquota a titolo di imposta, quindi vuol dire che pagherai il 23% indipendentemente dall'ammontare delle provisioni che hai percepito. Quindi considera che se tu dovessi per caso svolgere l'attività da dipendente, o anche se è molto raro da promoter come dipendente, in questo caso la tassazione sarebbe dal 23% a salire fino al 43% a seconda del reddito che tu hai. Invece nel caso del promoter tradizionale, quindi che percepisce provisioni, ma che non è un dipendente dell'azienda e quindi è semplicemente un incaricato alle vendite e percepisce delle provisioni, in questo caso la tassazione è appunto calcolata sul 78% delle provisioni, e su questo 78% si calcola il 23%. L'aspetto molto interessante di questa tassazione è che questo 23% è a titolo di imposta, quindi cosa vuol dire? Che queste imposte che ti sono state trattenute, diciamo, sulle provisioni nel metodo che appunto ti ho spiegato prima, sono definitive, quindi nella sostanza non hai neanche l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, perché appunto queste imposte sono considerate appunto si dice a titolo di imposta, quindi non a titolo di acconto di imposte che poi devono essere conguagliate, ma sono imposte definitive. Quindi tieni presente che non hai l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, ovviamente se non hai altri redditi oltre a quelli da promoter, e poi ti devo dire che comunque anche se non hai l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, hai però l'obbligo di effettuare tutti gli addempimenti relativi all'IVA, soprattutto nel caso in cui si stia parlando di un'attività da promoter professionista, quindi nel caso in cui tu la faccia a livello occasionale, non hai ovviamente l'obbligo di aprire la partita IVA. Se invece superi 5.000 euro netti di provisioni all'anno, allora hai l'obbligo di aprire la partita IVA. Con l'obbligo di aprire la partita IVA non hai nel caso del promoter l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, ma hai comunque l'obbligo di fare tutti gli addempimenti IVA, quindi il versamento della relativa IVA, e anche la presentazione della relativa dichiarazione IVA. Bene, questo è quello che voglio dirti in merito a come funziona la tassazione di un promoter che lavora nel network marketing, quindi è ovviamente una tassazione molto interessante e anche e soprattutto molto semplificata. In ogni caso se hai qualche domanda da farmi, se qualcosa non ti è chiaro su questa tassazione, ti invito a inserire la domanda sotto a questo video e sarò ben lieto di darti una mano. Se invece hai bisogno di una sessione di assistenza personalizzata su aspetti contabili e fiscali di chi lavora nel network marketing come promoter, allora ti invito a cliccare nel link che trovi nella descrizione a questo video per poterla prenotare. Oggi è veramente tutto, ti do appuntamento al prossimo video su aspetti fiscali del network marketing. Ciao alla prossima! Ciao!